Ben, è successo ieri, mi ripongo a 10, verso le 13. Stavo passando davanti ad una scuola media, ed uscivano la prima e la seconda media. Così ho pensato, faccio qualche foto per il mio sito www.dissigenova.com Tutto sembrava andare per il diverso giusto. Quando un ragazzino grassoccio, con l'orecchio un po' grande ventola e bastecchi da spaziero, si accorta la mia presenza e mi ha avvicinato. E con il fare un po' così, più lento, come se volesse dimostrare più anni, quindi che in realtà aveva, aveva otto 12 anni, mi ha cominciato a diridere. E soprattutto doveva ridere davanti ai ragazzini della sua classe, delle ragazzine, dicendo «Andate, posso fare foto con questo sito?» «Dissigenova.com». A quel punto sono arrivati i suoi compagni, che sembravano quasi un branco. Mi hanno subito spinto, poi spinto in terra. Mi hanno cominciato a lanciare i pop corn, i pringles, i caramelli. Io hanno iniziato cosa fare. L'impio di questi 12 anni, così bulli, mi ha travolto. È stata un'esperienza traumatizzante. Sono stato due giorni in casa a pensare e adesso non riesco più a passare davanti a una scuola media. Non riesco più a guardare un ragazzino, neanche i miei familiari, in faccia. Ma poi ho preso la decisione. Vorrei denunciare questa cosa. E la denuncio sul mio sito. Quindi i ragazzi di tutta l'età, anche 50 donne di mezza età, o appunto di Sir Genaro appunto che denunciate il bullismo e questo è una gran società.